Ben ritrovati a questo nuovo numero di Dolomiti Turismo, in questa settimana andiamo a scoprire la realtà invernale in Val di Fassa, l'avevamo avuto nostro gradito ospite la scorsa estate, ora ritroviamo per parlare invece di inverno il direttore generale dell'APT Val di Fassa, Paolo Grigolli, che saluto e ringrazio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, le recenti nevicate in Val di Fassa, tanto attese, hanno ricoperto questa splendida valle di un manto nevoso, ma la prima parte di stagione, Paolo, come è andata? Prima delle vacanze il Ponte dell'Immacolata, ci sono già dei numeri riguardo la vostra realtà turistica? Allora, siamo partiti molto bene, siamo stati davvero fortunati quest'anno, prime nevicate ancora a novembre, che hanno dato subito l'atmosfera invernale al territorio e un ponte di Sant'Ambrogio con un tutto esaurito. Quindi da questo punto di vista piste belle, impianti perfettamente in partenza con tutte le squadre rodate e un afflusso importante che, contrariamente a quello che accadeva negli anni precedenti, è rimasto costante anche dopo. Quindi nella parte centrale di dicembre, quella che va dal 10 al 22, che normalmente è un periodo di calo, un po' di stanche, che invece quest'anno, data la forte anche presenza di mercati non solo italiani ma anche esteri, ha dato dei risultati veramente belli, importanti per il territorio. Certo, le vacanze di Natale, qui in ambito bellunese si parla di impianti risalita di percentuali di più 13% rispetto al scorso anno, in Val di Fassa sono disponibili dei dati sui passaggi durante le festività? Sì, abbiamo dei dati recenti, nel senso che appunto dal primo dicembre fino a fine di dicembre abbiamo anche noi un circa più 12%, e questo significa che c'è una grande voglia di sciare, una vacanza che sul territorio ha anche però delle motivazioni ulteriori, nel senso che ovviamente soddisfiamo questa voglia di tornare allo sci alla normalità, possiamo dire che questo probabilmente è il primo anno veramente di ritorno alla normalità, dopo le annate ovviamente 21 e 22, e questo è un inverno che rimette al centro appunto il tema dello sci, ma abbiamo sviluppato tante altre esperienze, alcune sempre legate allo sci, ad esempio lo ski sunrise, quindi l'alba che accompagna lo sciatore sulle prime piste con i maestri di sci, è una fantastica colazione nel rifugi, esperienza che noi apriamo anche al non sciatore, ma che in gran parte è per chi vuole godersi, insomma, le prime piste immacolate, esattamente, così come abbiamo fatto anche dei tramonti con il rosa d'ira, quindi anche in questo caso dei tramonti nel rifugio, aperti a chi vuole raggiungere con gli impianti i rifugi nell'ultimo momento di luce, e scendere quindi all'imbrunire sempre con gli sci? E scendere all'imbrunire in questo caso con gli impianti, e qua c'è una bella collaborazione tra rifugi, impianti, APT, che consente di tenere aperta appunto gli impianti stessi, i rifugi, per fare questa esperienza unica, insomma, di godersi con un bellissimo tramonto sulle Dolomiti, e anche la gastronomia locale. Certo, ecco, un'altra cosa, lo Schissafari, per curiosità, è una realtà che la scuola Shiarab ha sperimentato con grande successo, spostarsi di giorno in giorno, un tour negli impianti di salita, logicamente, con gli sci e dormire nel rifugio per ripartire il giorno dopo con gli sci, anche in bal di fassa? Sì, quest'anno in particolare noi abbiamo letto dei segnali del mercato, e in altri territori appunto già si facevano, abbiamo voluto chiamare questo prodotto Ski Wonders, che è questa idea di scoprire con gli sci ai piedi il territorio, la sua ospedalità, la sua gastronomia, e tutto quello che le Dolomiti possono offrire. Quindi Ski Wonders è un prodotto che abbiamo confezionato soprattutto per i mercati internazionali, quelli più lontani, americani, piuttosto che orientali, ma vediamo un interesse anche da parte degli italiani. In questo caso appunto, come dicevi, c'è questa bella opportunità di dormire in luoghi diversi e di scoprire un comprensorio ampio, quindi la Val di Fassa come hub, come luogo di riferimento, ma che consente comunque nei 4-5 giorni di programma di estendere la sciata e il godersi appunto il territorio. Quindi da questo punto di vista il tentativo è quello di dire possiamo Ski ai piedi scoprire un territorio, la sua cultura, le sue tradizioni, la sua gastronomia, la sua ospedalità, la sua accoglienza. Ecco, quindi uno Ski meno, se vogliamo, legato al tema dell'agonismo o della prestazione, lo Ski come strumento di scoperta del territorio. Come esperienza, quindi anche se mi sembra di capire, però è un turismo di nicchia, nel senso che i rifugi chiaramente non hanno gli stessi posti letto delle strutture alberghiere. Sì, è un turismo di nicchia, è anche proposta che è abbastanza sofisticata da tanti punti di vista, però è quella proposta che vale il viaggio. Una persona dall'America o dal Giappone o dalla Corea, dalla Nuova Zelanda o dall'Australia fa questa esperienza perché è una cosa unica e unica al mondo. E quindi diventa davvero quell'emozione che richiede evidentemente anche un certo budget, richiede una grande anche passione, un entusiasmo, però si è ripagati da qualcosa che non si può fare in nessun'altra parte del mondo. Certo. Senta, Crioli, ci troviamo chiaramente con i rincari degli ski pass e di altri beni in genere. Quindi il turismo di alta gamma, c'è un turismo che può spendere anche oltre la giornata dello sci? Puntate su questo tipo di turismo con offerte particolari. Trovate questa la carta vincente anche per il futuro? Ma allora, noi abbiamo verificato anche quest'anno, in cui gli aumenti sono all'incirca nell'ordine dell'8%, che lo sciatore, lo zoccolo duro dello sciatore riesce ad assumere questo aumento e a renderlo praticabile a un certo punto di vista. E se noi guardiamo dall'altra parte la qualità che viene offerta in termini di infrastrutture, di piste, di servizi, insomma, con uno ski pass si può sciare 8 ore. Quindi, e si può sciare, guardando i nostri comprensori, davvero cambiando pista ogni giorno e non facendo mai le stesse piste. Quindi la qualità dell'esperienza vale quello che viene chiesto oggettivamente. Sappiamo che ci sono costi ingenti dietro alla preparazione delle piste, preparazione della neve, i gatti delle nevi, i gattisti, i tecnici e tutto il mondo che si muove intorno a questo. E questo evidentemente è un tema sul quale stiamo riflettendo, però abbiamo visto, e quest'anno ce lo dimostrano i dati, che lo sciatore capisce ed è disposto appunto per una qualità come quella che viene offerta nel nostro caso in Val di Fassa a spendere. Certo, allora, qualità nell'offerta quindi per un numero considero di sciatori servono un numero adeguato di strutture alberghiere. La vostra valle, vuol dire, Moena, Canazzei, Campitello, sono località molto importanti. Quanti posti letto avete in Val di Fassa? La Val di Fassa ha una struttura di accoglienza davvero importante. Parliamo di 285 alberghi, circa 20.000 camere e parliamo di campeggi con degli standard importanti che stanno crescendo, seconde case e case vacanza. Quindi in tutto noi calcoliamo circa 58.000 posti letto. Quindi è una valle che ha la possibilità di garantire per qualsiasi target un'accoglienza adeguata. Quindi dalla casa in affitto al bed and breakfast, al garni, al 5 stelle, al campeggio. Quindi c'è una varietà importante. Certo, ecco, per questi numeri serve ovviamente una viabilità adeguata. È sufficiente la viabilità su gomma che c'è in Val di Fassa oppure è in progetto magari anche altri tipi di mobilità come quella su rotaia, come insegnano altri esempi nel vicino Alto Adige e Grigoli? Allora, ci sono diversi progetti. Quindi oggi si tratta di iniziative che sono sulla carta perché evidentemente noi abbiamo una statale che attraversa tutto il territorio. Probabilmente abbiamo bisogno non solo di integrare il tema legato allo Schibus, noi abbiamo un investimento davvero rilevante sullo Schibus che è di circa un milione e mezzo per ogni stagione invernale e questo aiuta molto a dare maggiore fluidità al passaggio delle macchine e degli sciatori che vogliono arrivare appunto agli impianti. Però evidentemente la dimensione infrastrutturale è oggi un tema critico. In alcuni momenti abbiamo avuto delle criticità appunto durante Natale e Capodanno. In questa fase siamo molto più capaci di gestire questa massa di persone. Ci sono alcuni progetti in vista delle Olimpiadi, uno di questi si chiama BRT, quindi una corsia speciale per i bus, per gli autobus che saliranno sul territorio. Quindi ci auguriamo che un po' alla volta si riesca a gestire meglio questa criticità. Una corsia speciale però ci faccia capire meglio sulla stessa strada, sulla stessa rotabile oppure con una strada dedicata apposta? Allargando in alcuni tratti dove è possibile la strada e quindi facendo per alcuni tratti delle corsie privilegiate o anche delle corsie di insedimento degli autobus per rendere più scorrevole l'entrata e l'uscita dei passeggeri, dei turisti. Oggi questi progetti serviranno sicuramente a smaltire meglio nei momenti di maggiore affluenza. Ecco, un'ultima domanda. Grandi eventi, non soltanto sci alpino, nella vicina Val di Fiemme c'è stato il Tour de Schiro, sci di fondo. Adesso avrete a fine mese marcia longa, quindi grandi numeri per questi. Ulteriori altri eventi, Grigolli, nella stessa stagione? Questa è un'annata davvero speciale per la Val di Fassa perché finalmente riusciamo ad avere in calendario in Val di Fassa la Coppa del Mondo di Scii Femminile, 24-25 febbraio, due Super G sulla volata, la pista del San Mellegrino. Quindi una pista dove già si allenano le nostre atlete e i nostri atleti. Noi abbiamo due luoghi straordinari dove si allenano non solo gli atleti delle nazionali maggiori femminili e maschili italiane, ma anche tante altre nazionalità che vengono sulla LOC a Pozza e sulla volata in San Pellegrino, proprio perché trovano le condizioni ideali per allenarsi. E ci sono anche delle competizioni molto importanti, ad esempio la Baltic Cup, che è una competizione che rappresenta oggi più di 40 nazionalità e che ha creato con noi una storia ormai. Da diversi anni ospitiamo appunto le gare di questa Baltic Cup. E cosa abbiamo costruito poi quest'anno? Un'alleanza davvero bella e importante con un'Accademia dello Ski. Un'Accademia dello Ski che è nata in Inghilterra da un grande uomo di sport e di olimpiadi e di competizioni internazionali che ha sviluppato un'Accademia dello Ski con una sede a Tignes in Francia e adesso è una sede che abbiamo portato in Val di Fassa. Quindi un accordo per far crescere i giovani talenti internazionali, quindi proprio una Ski Academy a tutti gli effetti, che avrà in Val di Fassa il suo luogo, il suo epicentro. Quindi questo significa che la Val di Fassa non è solo un luogo dove ci sono le piste straordinarie, il grande comprensorio che poi si collega evidentemente al Giorgio Sopeschi, al Sella Ronda. Ci sarà anche la parte legata ai grandi eventi, le Coppe Europa, la Coppa del Mondo, ma anche la scuola. E quindi la competizione che si crea sui territori è quella di fornire poi i servizi adeguati per crescere questo movimento legato anche agli atleti e le nuove promesse. Ecco, questo è un progetto ampio sul quale stiamo lavorando. E allora Grigolli, abbiamo terminato ai noi il tempo a nostra disposizione, ma la ringraziamo molto per il tempo che ci ha dedicato e quindi le auguriamo buon lavoro a lei e a tutti gli amici della Val di Fassa. Grazie a voi e vi aspettiamo in Val di Fassa. A voi tutti gentili telespettatori e telespettatrici, l'appuntamento è rinnovato la settimana prossima per un altro numero di Dolomiti Turismo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti